Luce e gas, un rincaro in arrivo per tutti gli italiani, ma c'è la possibilità dei bonus per far abbassare le tariffe, lo ribadisce il Presidente di Estra. L'autorità per l'energia elettrica e il gas del sistema idrico ha comunicato le nuove tariffe di luce e gas per il trimestre 2017. Il rincaro della bolletta è pari al 2,9%, ma il costo del gas è in flessione del 2,7%. Ciò che incide maggiormente sui costi delle bollette degli italiani, spiega Francesco Macri, Presidente del gruppo Estra, non è il prezzo della materia prima, bensì la tassazione che viene applicata. Una soluzione per difendersi dai rincari, dice Estra, esiste e consiste nei bonus gas ed energia elettrica, una misura introdotta dal Ministero dello Sviluppo Economico che permette alle famiglie con bassi redditi di ottenere una riduzione delle bollette e dei consumi energetici. I bonus sono una misura ancora poco utilizzata dalle famiglie, dice Macri, poiché nel 2016 su 2 milioni di aventi diritto ne ha usufruito solo il 34% per l'elettricità ed il 27% per il gas. Di questi solo il 30% ha rinnovato la richiesta, il motivo sta nella scarsa informazione da parte degli organi preposti, per questo vogliamo promuovere una campagna di vasta informazione sul tema. I bonus per il 2017 consentono una riduzione fino al 30% per i redditi da 8.107 euro con una soglia massima di 20.000 euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico. La domanda per il bonus deve essere presentata al comune di residenza o a un altro ente disegnato dallo stesso comune utilizzando gli appositi moduli.